apparire o essere nell'essere umano l'arte della simulazione raggiunge il suo apice l'inganno l'adulazione la menzogna l'impostura il parlare dietro le spalle il fingere il vivere di fama riflessa l'indossare una maschera la convenzione eufemistica il recitare di fronte agli altri e a se stessi in breve il continuo svolazzare intorno alla fiamma della vanità sono a tal punto la regola che quasi niente è più incomprensibile di come si sia potuta diffondere tra gli esseri umani una sincera e genuina inclinazione alla verità friedrich nietzsche sul suo secondo pianeta abita un vanitoso anche in questo caso la scena iniziale rivelatrice ecco ecco la visita di un ammiratore gridò da lontano il vanitoso appena scorsa il piccolo principe per i tutti gli altri uomini sono degli ammiratori il piccolo principe è sconcertato il vanitoso ha un buffo cappello non lo porta per ripararsi le orecchie o proteggersi dalla pioggia se ne serve soltanto per salutare benevolmente quando lo acclamano ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti si lamenta l'applauso di un ammiratore è ciò che al vanitoso manca di più quando il piccolo principe gli fa questo favore il vanitoso diventa una sorta di burattino che si mette e toglie meccanicamente il cappello il fanciullo cui è completamente estraneo il neurotico desiderio di mettersi in luce del vanitoso si stanca presto del gioco monotono prima di congedarsi annoiato tenta ancora in vano di penetrare il segreto di questo narcisista chiede dunque al vanitoso che cosa significhi ammirare il dialogo che segue è gustoso ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello più elegante più ricco e più intelligente di tutto il pianeta ma tu sei solo in questo pianeta fammi questo piacere ammirami lo stesso ti ammiro disse il piccolo principe alzando un po le spalle ma tu che te ne fai proprio questa è la domanda da farsi perché quando siamo dominati dalla vanità l'ammirazione degli altri è tanto importante per noi evidentemente spostiamo il nostro centro verso l'esterno vale a dire che non siamo noi ad attestare il nostro valore ma lo rendiamo dipendente esclusivamente dagli altri non è forse in atto anche in questo caso un processo patologico e patogeno di compensazione il re compensava la sua effettiva impotenza con un atteggiamento enfatizzato da potente il vanitoso compensa il suo debole ego che in segreto ritiene inferiore e impresentabile con una pomposa messa in scena ed enfatizzandolo la vanità dice nicce è la tendenza a spacciarsi per un individuo quando non lo si è il vanitoso corrisponde al tipo dell'isterico in le quattro forme dell'angoscia fritz riemann descrive diffusamente obiettivamente questo tipo caratteriale sono perché sono ammirato è la massima del narcisista se mi percepirete nel mio splendore non potrete fare a meno di amarmi gli isterici uomini e donne mettono in scena tutta la loro vita come ebrezza estesi rappresentazione il mondo è il palcoscenico il partner è il pubblico che ha il solo compito di ascoltare attentamente l'isterico vanitoso e di applaudirlo fino a farsi dolere le mani i caratteri isterico vanitosi non sono strutturati sul dialogo ma sul monologo dietro alle loro clamorose entrate in scena dietro ai continui motti di spirito e alle arguzie è inaguato un io rovinato con una debole autostima si proibiscono di mostrare la loro depressione latente il loro grigiore devono presentarsi sempre al massimo della forma lo scrittore francese françois rené chateaubriand in un tipico esempio di carattere isterico depressivo ha così riassunto con umorismo la sua depressione latente la sua esigenza di conferma e il suo bisogno di apparire vorrei vivere in un eremo ma dovrebbe stare su un palcoscenico quando abbiamo in noi qualcosa del vanitoso di sente superi svolaziamo per il mondo come luminose farfalle attingendo da ogni fiore siamo pueri eterni o giovanette seducenti che vogliono restare per sempre giovani affettate dalla sindrome di elena per noi gli uomini devono combattere la guerra di troia abbiamo paura della vecchiaia e della morte tale carattere tuttavia non si esaurisce soltanto in tratti negativi la vanità in misura moderata è pur sempre una forza incredibilmente produttiva che ci sprona a grandi prestazioni senza un minimo di vanità andremo tutti in giro denigrandoci il vanitoso e isterico come sottolinea riman è infatti anche amante del rischio intraprendente sempre pronto al nuovo è elastico plastico vitale spesso brillante e coinvolgente vivace e spontaneo improvvisa esperimenta volentieri mette tutto in movimento scuote le tradizioni e gli antiquati dogmi fossilizzati a modi persuasivi è un grande fascino che sa consapevolmente usare così estrosamente e audacemente può vedere la vita come una colorata avventura e il senso della vita sta per lui nel viverla il più possibile in modo ricco intenso e pieno santo che superi ci mostra che cosa fa di noi la vanità morbosa quando nel ruolo dei vanitosi abbiamo consumato i nostri fuochi d'artificio verbali e gestuali si coglie spesso inaspettatamente un disperato senso di vuoto la sensazione di non esistere siamo allora poveri diavoli la nostra misera messa in scena viene smascherata sempre più rapidamente nel caso del piccolo principe bastano cinque minuti esatti per arrivare al disinganno il racconto non ci dice nulla sulla biografia interiore sulla psicogenesi del vanitoso ma se lo osserviamo con una certa benevolenza pensando alla nostra stessa inclinazione per l'autorappresentazione isterica allora sorge spontaneamente la domanda qual è l'origine di questo tipo di persona la psicologia ci fornisce alcuni chiarimenti in proposito horst eberhard richter attribuisce la responsabilità a un tipo particolare di famiglia nevrotica parla di una famiglia teatro nella quale tutti i membri recitano sempre una qualche parte sia gli uni con gli altri sia con gli estranei tutti vogliono essere al centro dell'attenzione e tutti hanno bisogno di essere applauditi i rapporti sono artificiosi quello che conta sono la grandezza e lo splendore di ognuno tutti fingono di essere stravaganti e fanno una turno da pubblico le persone che provengono dalle famiglie teatro tendono a dimostrare a sé e agli altri che il proprio atteggiamento deriva dal fatto che il mondo è solo teatro la comunicazione è ridondante incalzante e assetata di riconoscimenti l'interlocutore è degradato al ruolo di comparsa nascosta dietro a questi comportamenti che sono sempre anche meccanismi di rimozione c'è la depressione del tipo teatrale nel suo silenzioso camerino come per il vanitoso di sente ex superi per queste persone si può anche provare compassione quante energie richiede la costante messa in scena dell'auto inganno dell'illusione quando agiamo mossi soltanto dalla vanità tradiamo noi stessi questa auto idealizzazione è una bolla di sapone fatta di esasperanti io ideali e di auto inganni se da un lato determina un'immaginaria rivalutazione della nostra esistenza placando così apparentemente la nostra paura di fondo dall'altro essa innesca il più delle volte una dinamica distruttiva l'irreale sopravvalutazione porta infatti al disprezzo del nostro io reale paghiamo il sogno della somiglianza a dio con l'alienazione dal nostro vero io che ha insieme forte e debole splendido e misero nei casi estremi questa alienazione può portare a una scissione schizofrenica della coscienza lo psichiatra inglese lyng nel suo famoso studio l'io diviso descrive questa perdita del nucleo dell'io introducendo il concetto di insicurezza ontologica ogni individuo di norma percepisce se stesso come reale vitale intero diverso dal resto del mondo interiormente coerente dotato di sostanza verità e valore egli ha un solido nucleo di sicurezza ontologica una persona esistenzialmente insicura come il nostro vanitoso patologico invece percepisce se stessa all'interno della sua psiche come morta piuttosto che vitale con una personalità sconnessa quasi priva di corpo e di sostanza nella vanità siamo costantemente intenti ad assicurarci della nostra identità soprattutto del nostro corpo e nello stesso tempo abbiamo sempre paura di perdere tale identità siamo come schlemil il protagonista della favola storia meravigliosa di peter schlemil di albert von schemisso perdiamo la nostra ombra e dunque il nostro essere diventiamo l'imitazione di una persona siamo malati nella cittadella sante superi formula così questo concetto mi vennero in mente alcune considerazioni sulla vanità poiché essa non mi è sembrata un vizio ma una malattia perché come si può trarre la propria gioia dagli altri se non attraverso l'amore e il dono di sé la vanità deriva da un dono falso e ingannevole ma il vanitoso invidia il re e se il re gli ha sorriso e gli si avvolge in quel sorriso e si pavoneggia per essere invidiato a sua volta il re gli ha prestato la sua porpora non possiamo certo dire che il dramma della vanità non si riguardi e che si tratti di un raro comportamento patologico basta pensare al consumismo nella nostra società non ha forse a che fare con la vanità e non ha contagiato tutti noi siate sinceri con voi stessi quante paia di scarpe pantaloni quante camicie giacche e gonne riempiono i vostri armadi non perfezioniamo forse quotidianamente il nostro ruolo di attori di fronte agli altri davvero mostriamo ancora la nostra nudità la nostra affettuosità la nostra vulnerabilità non cerchiamo forse con il nostro postmodern outfit di essere sempre in perfetta forma in ossequio al culto della giovinezza propagandato dalla pubblicità la nostra moderna professione di fede non è forse consumo e gusum e non definiamo già da tempo il progresso come la crescita esponenziale dei beni di consumo a soddisfazione della nostra vanità non viviamo forse anche noi come l'infelice monarca della favola di anderson i vestiti nuovi dell'imperatore la smania di una rappresentazione propria della società dell'evento e del fan society con la nostra vanità non ci muoviamo freneticamente senza tuttavia fare un passo avanti deprivandoci di potenzialità personali non ancora sfruttate di nuove vie sfide e opportunità di crescita la visita del piccolo principe presso il vanitoso è breve ma solleva tante questioni che riguardano l'essere o l'apparire della nostra esistenza Grazie a tutti.